Ho chiamato questa presentazione Personal Economy. Perché Personal Economy? In realtà, diciamo che sto facendo degli esperimenti di pensiero e sto essenzialmente scrivendo quello che... facendo l'outline di quello che potrebbe poi un giorno diventare un libro, non lo so, o una serie di video un po' più dettagliati, quindi voi siete le mie cavie del laboratorio. Allora, perché Personal Economy? Sono partito da... Voglio fare una live sul Passive Investing, no? Io ho messo giù che argomenti voglio toccare. Sono tanti, sono tanti. Partirei dall'Efficient Market Hypothesis, quello che vedete con EMH. Poi si può parlare del concetto di Buy and Hold, ETF, come minimizzare i costi, qual è l'impatto dei FISUL sull'investimento a lungo termine, il concetto di che brokers utilizzare, cos'è un indice, che indici sono interessanti, arrivare a rebalancing, cos'è un robot advisor, che ritorni ci possiamo attendere, e poi magari Smart Beta, e già qui dico, va bene, ok, Factor Investing, quindi già entriamo in un passivo ma non super passivo. Asset Allocation. Asset Allocation è dentro Passive Investing? È qualcosa che ha a che fare con... È uno strumento passivo? Beh, se io decido come allogare le risorse, proprio un po' di attività ce la sto mettendo, non è un concetto passivo. Quindi ho detto, ma esploriamo un po'. Che c'è fuori? Andiamo fuori dal Passive Investing. Per parlare, per mettere in un contesto. A me piace sempre... Io ho questa malattia mentale, del voler mettere sempre le cose nel contesto del senso della vita. Cioè, se mi parli di qualcosa, dico, ok, interessante, ma come si colloca con il resto delle cose che conosco, che penso, in cui credo? Come si colloca all'interno del mio Knowledge Tree? Come si colloca un concetto all'interno della mia base di conoscenza? Quindi ho detto, ok, Passive Investing, zoomiamo out e andiamo nel mondo dell'investing in generale, perché non contestualizzare, no? Perché non parlare anche degli investimenti inteso a più ampio spettro, quindi anche del risk assessment, quanto sono avverso... Vedo che la mia camera qui... Aspetta che mi rimpicciolisco perché mi rubo spazio, mi rubo un po' di spazio. Ecco qua. Ok. Dico, perché parlare soltanto dell'investimento passivo? Perché non toccare un po' gli aspetti più ampi? Perché la gente mi chiede su che ETF devo investire? Dico, aspetta, perché... Cioè, ok, ti posso dire su che ETF investire? Per la legge italiana no, perché non sono ridolato a dirtelo, però in teoria anche se potessi dirtelo, perché parlare di che ETF investire? Perché non parliamo intanto di qual è la tua avversione al rischio? Cioè, tu chi sei? Dove stai andando nella vita? Cosa accade se vedi il patrimonio a crollare? Poi, di che asset class vogliamo parlare? Stocks, bonds, investimenti alternativi, cripto, peer-to-peer lending, real estate... Quindi abbiamo più asset class da analizzare, prima di parlare su che ETF investire. Poi, quanti anni hai? Dove sei nel tuo percorso della vita? Ovviamente le cose cambieranno a seconda che tu sei sia all'inizio di una fase di accumulazione o abbia un certo patrimonio e vuoi proteggerlo. Poi, come fare capital deployment? Tutto assieme? Oppure un pezzo alla volta? Queste sono cose che analizzo spesso quando incontro persone che hanno problemi di investimento. L'aspetto behavioral. Quindi, come ti comporti quando c'è euforia attorno a te? Come ti comporti quando c'è paura attorno a te? Tu hai paura? Cosa accade se il mondo crolla? Come pensi di tenere? Pensi, tra l'altro, di sentirti un super schillato se indovini un investimento? Quindi l'overconfidence? Comunque, tutti gli aspetti behavioral fanno parte di questo mondo qui. Su queste cose non sono un grande esperto. Ho letto, ho sperimentato sulla pelle. Su tante di queste cose qui mi sento non un grandissimo esperto. Per cui approccio il campo con molta umiltà. Che mi contraddistingue. Cos'è un investor policy statement? Ne ho parlato anche sul mio blog e vedo che sono anche articoli che attraggono molto. Quindi prima di iniziare a investire, prima di iniziare a mettere soldi da qualche parte, quello che io consiglio è di fare una policy statement. Cioè, come sto investendo? Con che obiettivi? Con che formule? Qual è la mia strategia a più ampio raggio? Non soltanto l'asset allocation. Qui stiamo espandendo il concetto anche di asset allocation, se vogliamo, in questo pallino investing. Qual è il ruolo di un financial advisor? Mi serve? Non mi serve? Boh. Considerare leverage? Ha senso? Non ha senso? Un tempo ero abbastanza contrario. Adesso ho visto diverse risorse che indicano come per un giovane può aver senso usare strumenti leverage. In che senso? Adesso non voglio soffermarmi troppo, però nel senso che durante la tua carriera da investitore tu investi tanti soldi e l'impatto che hanno i ritorni nei successivi 40 anni non è equamente distribuito. I ritorni del mercato nei prossimi 10 anni se hai appena iniziato sono quasi rilevanti per il tuo successo finanziario. I ritorni degli ultimi 10 anni prima dell'arrivo alla pensione o diciamo quando avrai magari un milione accumulato, quei ritorni lì decrederanno il tuo successo e il tuo fallimento. Quindi essendo i ritorni del mercato impattando in maniera proporzionale al capitale investito in quel momento, i ritorni quando uno ha più soldi sono più importanti dei ritorni quando uno ha meno soldi. Come si fa per distribuire più equamente l'impatto degli anni in cui uno ha investito utilizzando leverage all'inizio e essendo invece molto più prudente utilizzando anche inverse leverage quindi non so, avendo più liquidità quando si è più ricchi. Quindi questi sono strumenti interessanti. Ho letto, c'è un bellissimo video di Ben Felix a riguardo, c'è anche un bell'articolo di Nicola Protasoni di Italian Letters Sofa sull'everage che è una serie sull'everage molto interessante. Comincia ad essere molto su consigliato per chi è giovane. Alcuni aspetti, siamo sempre nel mondo dell'investimento. Tax optimization, non si può parlare di investimento, dove investire, come investire, quando entrare, quando uscire se non parliamo anche dell'impatto delle tasse. Le tasse sono ovviamente country specific. Poi, ok, ci stiamo un po' allargando, value investing, trading, ok, sono concetti relativi al mondo dell'investimento. Poi ci ho detto anche investire in te stesso, io lo dico sempre, quando mi trovo un ventenne che mi dice ho 500 euro su quale TF li metto? Dico, aspetta, parliamo prima di dove vuoi andare. Poi, sei un ventenne, sei un informatico, pensi di poter crescere professionalmente? Investi in te stesso, siamo ancora nell'investimento? Un po' borderline, che c'è? Quindi, a zoomiamo out, il pallino al centro è il passive investing. Che c'è al di fuori dell'investimento? C'è quello che è il mondo della personal finance. Secondo me, è un mio modello, lo sto sviluppando nella mia testa. Personal finance è tanta roba, è veramente tanta roba. Siamo fuori dal soltanto invest, ma io reputo che ci siano più aspetti. Essenzialmente earning, cioè quindi quanto guadagni, come guadagni, spending, ok? Quindi quanto spendi e investi la differenza. In più ci metto anche altre cose che sono planning, forecasting, tracking soprattutto. E qui ho lanciato un po' di idee che riguardano il mondo della personal finance e qui volevo chiudere la mia sfera. Dico, va bene, parliamo di personal finance, non facciamo un video soltanto sul passive investing, contestualizziamolo, mettiamoci nella personal finance. Quindi parliamo di ha senso investire? Sì, ma solo dopo che hai curato un po' quanto stai guadagnando, quindi i tuoi earning, piuttosto che ottimizzare il ritorno su un ETF indice, magari è meglio che lavori affinché tu abbia una promozione e guadagni il 20% più dello stipendio. Ha più senso. I ritorni, specialmente all'inizio, il grosso del tuo successo finanziario è dovuto da quanto guadagni e quanto spendi, non dai ritorni degli investimenti. Se il mercato fa 7% e tu hai fatto 5, hai fatto 9, cambia poco se ci hai messo 1000 euro, se ce ne hai messi 100.000. lì cambia di più se ci metti 100.000 che se hai messo 1000 ma hai ottimizzato l'investimento. Quindi dal mio punto di vista la personal finance è molto più importante, evitare i debiti, sono messi un po' a caso, dovrei riragruparli ma piano piano, piano piano ci arriviamo. Quindi gestire la crescita del patrimonio inteso come ricchezza generale, magari si parla anche di housing, cioè comprare una casa, non comprare una casa, dove vivere, location, vivo in Italia, vivo in Svizzera, vivo in Lussemburgo, come gestire il debito, come gestire il credito, far crescere una carriera, aspetti assicurativi, testamenti, proiezioni, esposizione a più currency, tanta roba, tanta roba, questo sta diventando veramente l'outline di un libro. E poi ho detto, vabbè ragazzi, io sono blogger, sono un blogger che parla di financial independence e early retirement. Il retirement è ovviamente un concetto di personal finance, perché il retirement è essenzialmente la decisione di smettere di lavorare e vivere dei propri, dei proventi, dei propri investimenti, quindi siamo ancora nel mondo personal finance, scegliere il safe withdrawal rate, la withdrawing strategy, quello è retirement, capire quanto, proiettare anche eventuali eredità o eventuali rendite da pensioni ufficiali, quindi fantastico, analisi del cash flow, tracking, tutto mondo personal finance. E la financial independence? retirement sta qui sicuro, ma la financial independence cioè arrivare a quel, raggiungere quel punto in cui le mie entrate passive o meno coprono, coprono i miei desideri, quello è un concetto che va un po' quasi fuori la personal finance e quindi ho detto zoomiamo un po' fuori, zoomiamo un po'. E allora ho capito che in realtà parlare solo di soldi non ha senso, è decontestualizzato, i soldi sono una delle risorse scarse. Ci sono altre risorse scarse, abbiamo, soprattutto il tempo, soprattutto l'attenzione, le skill, le relazioni umane, e quindi la salute, e quindi la financial independence in realtà è semplicemente una gestione più efficiente del concetto di scarsità, di economia personale, quindi ho del tempo a disposizione. Ingegnerizzare la propria financial independence significa magari vuole sfruttare il tempo in maniera più efficiente in un certo periodo della vita per poi ottenere più tempo in un secondo periodo della vita, magari lavorando sulle, investendo del tempo per crescere skill che a sua volta possono aumentare l'income e che possono accelerare questo processo. Quindi mi piace parlare di personal economy più che di personal finance. La personal finance è come gestisci tutta la tua ricchezza economica. Personal economy è come gestisci la tua ricchezza in termini di risorse, che sono anche relazioni umane, che sono anche la propria attenzione, e così è come gestisci il concetto di needs versus want, quindi cose di cui hai bisogno verso cose di cui potresti non avere bisogno. E quindi questo è il livello a cui a me piace agire. Quindi un domani scriverò un libro, lo scriverò su questo concetto qua, che poi andrà in dettaglio fino ad arrivare a che ETF comprare probabilmente, anche se quelli sono aspetti che diventano rapidamente obsoleti, perché sono concetti che magari fra 5-10 anni usciranno nuovi tool più efficienti come i personal index, sento parlare. Economia. Alla fine io mi occupo di financial independence perché perché mi piace gestire in maniera efficiente le risorse che ho a disposizione, tra cui soprattutto il tempo. E ok, però non ero soddisfatto. Qui potevo fermarmi e dire ok, da adesso riparto, espando qualche punto, preparo 50 video su questa materia e lancio la mia serie di video tematici corti più gestibili. però dico va bene, ok, come funziona l'efficientazione di questa macchina? Perché? È per tutti uguale? Zoomiamo un po' fuori, quindi andiamo in territori un po' più inesplorati. Che c'è fuori da questa roba qua? Vediamo se lanciamo una lanciamo vediamo se qualcuno indovina che c'è fuori di questa roba. Cosa ho reputato esserci fuori di questa roba qui? E niente, mi son detto scusate eh. Allora, mi son detto zoomiamo fuori e vediamo che c'è al di fuori della personal economy e ovviamente ovviamente come avete sicuramente indovinato si va nella filosofia di vita. No? E qui ci fermiamo cioè come ottimizzare la propria economia personale? Cioè ottimizzare perché ottimizzarla? Ci sono anche delle filosofie di vita che dicono l'elogio all'ozio oppure decrescita oppure lavora, lavora come un matto o whatever e quindi questo è un livello a cui a me piace moltissimo speculare no? sui propri valori l'elenco dei propri valori quali sono i tuoi valori chi sei chi sei cosa ti piace la conoscenza anche gli aspetti spirituali quindi intesi non soltanto come religiosi ok? Quali sono gli obiettivi della vita? Ovviamente poi in base a quello che sono le proprie credenze alcuni aspetti su cosa si vuole lasciare come l'ascito all'umanità questi impattano la propria economia personale però vabbè dai voglio un po' zoomare fuori e qui entriamo veramente in cose su cui non ne sappiamo più niente che c'è al di fuori di questo qui qui stiamo però nel mondo dell'assurdo e suggerisco tantissimo the meaning of life is absurd la suggerisco tantissimo da leggere che c'è al di fuori ok ho la mia filosofia di vita ma vabbè dove sto navigando dove stiamo andando su questa terra fino alla morte termica dell'universo questo quindi è la è la logica conclusione di questo discorso quindi volevate sapere che ETF dovevate comprare e adesso siamo arrivati alla morte termica dell'universo